Passeggia nel parco con tua figlia. A venderti casa ci pensa il tuo agente immobiliare specialista che ha superato il test. Se vuoi affidarti ad un agente immobiliare per vendere casa, fagli il test. Il test consiste in alcune domande dove vai a individuare se quello può essere l'agente immobiliare adatto a te per venderti casa. Chiedigli quanto tempo sta facendo questo lavoro. Negli ultimi 6 mesi, 12 mesi, quante case ha venduto? Ad oggi quanti immobili ha lui personalmente in portafoglio? Chiedigli quanti sono in agenzia, come sono organizzati? Chiedigli quali attività farà per venderti casa? Chiedigli quali risultati strepitosi ha fatto ottenere ai suoi clienti. Queste sono alcune domande, alcuni quesiti del test che tu devi fare al tuo agente immobiliare per scegliere quello giusto affinché lui ti possa vendere casa a breve tempo al miglior prezzo.